Davvero 30 secondi invece, come dire, ambasciatore non porta pena. So che l'è stato recapitato, non solo a lei Presidente, ma a tutti i gruppi parlamentari, questo regalo di Natale da parte di un'associazione che si chiama Autismo in Movimento, un braccialetto che fa riferimento a questo loro progetto legato al villaggio della felicità. So che è un tema a cui lei è molto sensibile, questo stesso braccialetto è in tutti i gruppi parlamentari, hanno lasciato anche una piccola lettera dicendo che i grandi uomini sanno che la felicità non nasce dalla ricchezza né dal potere, ma dal piacere di donare. La ringrazio molto, non sono ancora materialmente stato nel mio ufficio perché abbiamo lavorato finora, quindi sarà sicuramente sopra, la ringrazio e lo metterò certamente perché è un mondo a cui sono molto legato e a cui cerco sempre da una vita di dare una mano.